Siamo con il CIS per tutti gli aggiornamenti, ci ritroviamo subito dopo. Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Circolazione regolare sulla rete, malgrado le nevicate in atto al centro-sud, sulla 14 tra Riccione, Pesaro e Traccanosa e Taranto, ma anche sulla 16 tra Grotta Minarda e Lacedonia e anche in Sicilia sulla Palermo-Catania. Pertanto è opportuno partire soltanto se muniti di catene a bordo o pneumatici invernali montati. Sta nevicando debolmente anche sulla 1, la Roma-Napoli, tra Cassino e Caglianello, ma si viaggia agevolmente anche grazie al costante passaggio dei mezzi antineve e spargisale per scongiurare il pericolo ghiaccio. Vi comunico che è stata disposta dalle prefetture di Teramo, Chieti e Pescara l'interdizione alla circolazione dei mezzi pesanti e superiori alle 7 tonnellate e mezzo. Come di consueto, monitoriamo in real time le immagini che ci giungono in diretta dall'area fiorentina da Incisa. Come vedete, flussi veicolari irregolari in entrambe le carreggiate. Scendiamo alla diramazione di Roma-Sud, dove abbiamo dei flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate. Ma inizio nelle comunicarvi che si è verificato un incidente sulla 22 Autostrada del Brendola che sta generando code per 6 km tra Rovereto e Alavio in direzione Modena. In area fiorentina abbiamo un incidente sulla 1 tra Firenze in Pruneta e Incisa che sta generando code per 2 km. E abbiamo un tratto chiuso per neve sulla Tiburtina Valeria tra Collarmele e Castelvecchio. Infine, desidero segnalarvi in Sicilia sulla strada statale 186 Monreale traffico bloccato per un incidente verificatosi tra Bolgetto e Pioppo. Grazie per l'attenzione, queste le notizie di maggior rilievo. Da Alessandra Canali di Rai Pubblica Utilità in collaborazione con il Centro Coordinamento Informazione e Sicurezza Stradale, buon proseguimento con l'informazione di Rai News. Guidate con prudenza e buone feste. Arrivederci. Grazie per la visione!